Eccole, tirano fuori la bocca e il naso dal pertugio in questa vasca, in questa versione dell'acqua. La gola, non ci sono i naufraghi che riempiono le vasche d'acqua, ma sono autoriempienti. Quando il livello dell'acqua raggiungerà il loro naso e bocca e non potranno più rimanere sott'acqua, dovranno uscire come ha fatto, attenzione, Mercedes in quest'istante è riuscita a vincere in terza finalista dell'Isola dei Famosi e quindi Maria Laura. Maria Laura è la terza finalista, ma non ho capito cos'è successo, Mercedes, perché hai abbandonato così? Brava, complimenti a Maria Laura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.